E' lecita la tortura come strumento di indagine della verità? Quando anche la tortura fosse un mezzo per scoprire la verità dei delitti, sarebbe un mezzo intrinsecamente ingiusto. E' somma ingiustizia l'esporre un sicuro scempio e ad un crudelissimo tormento un uomo, che forse è innocente. E' il porre un uomo innocente fra quegli strazzi e miserie, tanto è più ingiusto quanto più lo si fa con la forza pubblica stessa, affidata ai giudici per difendere l'innocente dagli oltraggi.